All'1 Ulpia Grif, al 2 Ussela S, al 3 Upper Deni, al 4 Umatikai, al 5 Urukujana, al 6 Urrabi, al 7 Upupa RL. Gioco orientato su Umatikai a 2.10, la quota al totalizzatore. Quando l'allineamento è ormai completato, le cale sono a 250 metri dallo stacco. Tutte bene a rete, con Urukujana, forse un filo più attaccata delle altre, ma insomma, problemi per Umatikai nella fase iniziale. Sbaglia la favorita. E allo stacco è veloce, proprio Urukujana ad assumere il comando delle operazioni nei confronti di Assel e AS, quindi Upper Deni. Poi, più indietro, per linee esterne, il numero 7, Upupa RL, con all'interno Urrabi. Distante Umatikai, quando siamo al completamento della piegata, il primo quarto di gara, che va via in 29, appena abbondante, da parte di Urukujana, che continua a condurre su USEL-AS, quindi Upper Deni, con Upupa RL, che ora prova a risalire per corsie esterne al passaggio AI-600, che avviene in 45,5. La schiena di Upupa RL è presa da Urrabi, quando siamo adesso a metà della piegata di destra, con sempre al comando Urukujana, il passaggio a metà gara, che avviene all'ordine dell'1-2. Con il gruppo molto raccolto dalla coda, prova a muovere in terza corsia Ulpia-Griff, ma chiaramente rimane lì sull'accelerazione, quando si arriva ora al passaggio al chilometro, in 1.17,5, con Urukujana sempre leader. Gli altri che sono lì tutti un po' ammucchiati, si è ricongiuta anche Urukujana, che ha dato veramente un bonus di svariate decine di metri. Quando siamo adesso a metà della piegata conclusiva, con Upupa RL, che va all'attacco della leader Urukujana, poi più indietro Urrabi, che prova a scoprirsi in terza, non ha spazio. Hassel AS, che ora prova la via interna e cerca di filtrare su Urukujana, che forse allarga un pochino. Hassel AS, che sta passando di dentro, poi si fa vedere Urrabi, Hassel AS, che ha trovato il varco fondamentale. Urrabi che ci prova nel finale, Urrabi, che probabilmente riesce ad avere la meglio nei confronti di Hassel AS, ma andiamo a rivedere, perché le due sono veramente molto vicine. aveva tentato il varco interno, trovandolo, René Legati, con Hassel AS. Eccole qua le immagini con Urukujana, che viene stappata da Davide Di Stefano, si allarga un pochino, si infila di dentro Hassel AS, che guadagna qualcosa per linee esterne Urrabi, che va ad insidiare la leader. Nel finale riesce a mettere quello che basta davanti. Il 6 al primo posto, quello di Urrabi, Francesco Pettinari, alla guida per Antonio Volpantraining, la scuderia dell'azienda agricola Biasuzzi. 2-1 e qualcosa, 2-1 e 3, il tempo totale, 1-15 e mezzo, la media al chilometro. 4-1 e 3, il tempo totale, 4-1 e la scuderia dell'azienda agricola Biasuzzi. Grazie a tutti.